Contro gli incidenti e le vittime sul lavoro dal 1 ottobre entra in vigore la patente a punti, il nuovo strumento messo in campo dal governo che per ora riguarda solo l'edilizia. La domanda va presentata da domani entro il 31 ottobre. Senza questa richiesta non si potrà operare nei cantieri e bisognerà fermare l'attività a partire dal 1 novembre. La patente dei cantieri che riguarda attività di costruzione, manutenzione, demolizione e altre operazioni edili partirà con un punteggio di 30 punti che possono essere incrementati o decurtati fino alla chiusura dell'attività per 12 mesi. Grazie